Ciao a tutti ragazzi, in questa breve video-lezione daremo una prima idea di che cosa siano le discussioni di equazioni parametriche di primo grado. Cominciamo con il considerare un'equazione di primo grado del tipo ax più b uguale 0, nella quale a e b siano funzioni di un parametro reale, di una variabile cioè che può assumere valori arbitrali. Sono equazioni parametriche di primo grado, ad esempio, le seguenti 5, che moltiplica x più 1 meno k, che moltiplica 3 più k uguale 0, oppure ancora 1 meno m, che moltiplica x più 6 uguale 0. La soluzione di un'equazione di questo genere dipende solitamente dal parametro e quindi può assumere infiniti valori in corrispondenza degli infiniti valori che è possibile assegnare al parametro. È ovvio immaginare che, per quanto riguarda il primo esempio, al variare di k varierà la soluzione dell'equazione, così come è ovvio immaginare che, a variare di m nel secondo esempio, varierà la soluzione dell'equazione. Discutere un'equazione di questo tipo vuol dire determinare quali sono i valori del parametro per i quali vengono soddisfatte determinate condizioni. Ad esempio, vorremmo chiederci quali sono i valori di k, per quanto riguarda questo primo esempio, per i quali x è minore o uguale di 1? Oppure ancora, per quanto riguarda il secondo, quali sono i valori di m per i quali x è compreso tra 2 e 4? Per far questo si utilizzano normalmente due diversi metodi, il cosiddetto metodo diretto e cosiddetto metodo grafico. Per quanto riguarda il metodo diretto, riconduciamo il nostro problema alla risoluzione di una o più disequazioni. Per quanto riguarda invece il metodo grafico, applichiamo le nostre conoscenze di geometria analitica per determinare i valori del parametro per i quali l'ascissa dell'intersezione tra una retta fissa e una retta variabile in un fascio di rette soddisfa le condizioni di richieste. Bene, per quanto riguarda questa lezione non c'è altro. Rimandiamo ogni approfondimento alle successive video-lezioni in cui tratteremo esempi specifici. Nel frattempo vi ricordo che potrete utilizzare il nostro forum per qualsiasi dubbio o domanda abbiate da sottoporci e vi ricordo inoltre che potrete restare costantemente aggiornati sulle nostre video-lezioni iscrivendovi al canale YouTube oppure mettendo il mi piace sulla nostra pagina Facebook, anche direttamente dal nostro sito www.lezionedimate.it. Nel frattempo vi ringrazio per aver seguito questa introduzione alla discussione di equazioni parametriche di primo grado.